Salve amici di TikTok e YouTube, oggi vi spiegherò in questo video come dire pantaloni in inglese perché molti me lo avete chiesto e ci sono tanti modi per dirlo e adesso vi spiegherò bene quali parole si usano e quali utilizzare, anche se è principalmente una differenza regionale. Allora potete dire pants che è usato in Canada, negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda, in Sudafrica, in India, a Singapore e anche nel nord ovest dell'Inghilterra è usato la parola pants. Poi c'è la classica parola trousers che è usata nel Regno Unito e in Irlanda. Da altre parti è un po' obsoleta, ecco, come parola. E sì, però trousers nel nord ovest dell'Inghilterra è usato un po' meno ed è usato di più pants, ma solo in quella zona lì. Poi troviamo la parola slacks che è usata in Nord America, negli Stati Uniti e Canada e anche in Australia. Poi c'è strides che è usata nel Regno Unito e in Australia. Poi c'è bricks che è usata nell'inglese scozzese, quindi solo in Scozia, bricks. Poi c'è breaches che è usata negli Stati Uniti, solo in... principalmente nella regione degli Apalacchi e nel sud. Poi c'è la parola hosen che è usata nel Old English, quindi nel vecchio inglese, quindi è una parola più storica, arcaica e poetica. Poi vi volevo dire anche un'altra cosa che spesso pants può essere in inglese britannico un falso amico, anche se loro lo sanno bene che in altre zone è usato per i pantaloni, mentre in certe zone pants nel Regno Unito e Irlanda è usato come mutande. Quindi si dicono pants, underpants e drawers, per dire mutande, ma se no negli altri Stati pants è solo usato per i pantaloni e quindi per dire mutande dicono underwear, underpants, drawers. Poi ci sono parole specifiche come i boxers, poi brief che sono gli slip e anche... che parola c'era ancora? Ah sì, panties che sono le mutandine da donna. E poi volevo dire anche che tipo slip non è usato in inglese, ma in inglese si usa briefs per dire slip e se tu dici in inglese slip nell'abbigliamento sarebbe come pericoat che sarebbe una sottoveste. Ecco, quindi ci sono parecchi falsi amici e sì, spero di avervi aiutato e commentate pure i miei video se ci sono altre domande, scrivetele nei commenti o inviatemi dei messaggi, ecco. Ciao e a presto!